Lei, Popolizio, si occupa nel suo spettacolo, racconta cos'è il populismo sostanzialmente. Che idea si è fatto? C'è uno scarto tra quello che si promette e quello che poi si riesce a mantenere? Nel mio spettacolo c'è una frase in cui il dottor Stockman si rivolge al pubblico, è una grande riunione popolare, e dice non se la prende più con i politici dirigenti, il sindaco, ma dice, saremo tutti d'accordo che sulla faccia della terra la maggioranza è costituita da imbecilli. Perché dovremmo stare le decisioni della maggioranza? La maggioranza è solo teatro, niente paura, ma è un paradosso. Voglio dire, io rivendico da cittadino il diritto di fidarmi. Non voglio dire alla fine, non mi piace dire che banda di buoni a nulla ma capaci di tutto.